A nome della mia famiglia e dell'azienda che dirigo vorrei dare un benvenuto caloroso innanzitutto alle numerose autorità, alcune delle quali poi porteranno saluto, in particolare il rettore dell'Università di Udine, la professoressa Compagno, il sindaco di Udine, il professor Ronsele, anche membro del comitato scientifico della fondazione, il presidente della provincia il professor Fontanini che poi ci darà il suo saluto e naturalmente benvenuto al governatore della regione, l'onorevole Renzo Tondo. Naturalmente saluto anche gli importanti relatori numerosi per un convegno che spero, credo, sarà particolarmente interessante ed attuale. Naturalmente sarà una prima parte di inquadramento generale che verrà fatta dal presidente della fondazione e poi quest'anno abbiamo invertito un po' le cose, abbiamo preferito far parlare prima i ragazzi quello che hanno fatto per poi passare alla parte di convegno vero e proprio perché credo sia giusto e rispettoso verso il lavoro di chi è all'interno della fondazione. Poi avremo un importante contributo della professoressa Sanderson dell'On Renaissance Foundation, è una fondazione partner della nostra fondazione, quindi avremo un contributo che viene dall'estero, poi avremo sul tema della sostenibilità e territorio il professor Vladimir Kosic, assessore regionale e alla salute e poi passeremo la parte legata alla socialità, quindi alla sostenibilità ai consumi con il professor Mario Abis, professore di ricerche psicosociali della Iulm e anche direttore generale della Macno. Naturalmente avremo come ogni anno ma in particolare quest'anno come relatore l'amministratore delegato dell'Electrolux Appliance, il dottor Gianfranco Schiava, sul tema della sostenibilità per una grande multinazionale, poi il dottor Giovanni Alzani, il presidente di Assarredo, parlerà dell'associazione, della nostra associazione, come si pone rispetto alla sostenibilità e poi il ruolo delle istituzioni con l'amico onorevole Roberto Menia, credo che stia arrivando, e con il saluto del onorevole sottosegretario, onorevole Stefano Saglia che ha avuto un contrattempo ma ha mandato un messaggio di saluto. Concluderà poi il convegno il professor Adriano De Maio. Naturalmente ringrazio tutti i membri del comitato, i consiglieri e i partner della fondazione che lavorano all'interno della fondazione, che la sostengono. Ormai è qualche anno che la fondazione è nata, comincia ad essere una realtà che ha fatto dei passi avanti, poi il presidente ci spiegherà dove è arrivata e cosa intende fare in futuro. A me aspetta solo una breve introduzione, anche per lasciare spazio ai grandi e importanti relatori e ai saluti. Proverò a introdurre il convegno ponendo alcune domande, ma lo inizierò citando una breve frase di una grande persona, è una frase del 18 marzo 1968. Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones né i successi del Paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Misura tutto in breve, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Può dirci tutto dell'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. Kennedy all'Università di Kansas. Io credo che questa sia una frase che è talmente attuale, talmente corretta, talmente giusta che è una giusta introduzione al tema di oggi. Lo sviluppo sostenibile è l'insieme dell'attività umane che guarda lo sviluppo economico e la crescita del benessere in maniera sostenibile nel rispetto sia alle esigenze dei consumatori che dell'ambiente. Significa fare in modo che questo sviluppo non consumi risorse e basta, ma produca risorse nuove. o quantomeno sia sostenibile nel lungo periodo. Quindi parliamo di sviluppo economico legato ad una forte attenzione alle risorse che il pianeta ci mette a disposizione per non compromettere il futuro delle nuove generazioni. Ma la sostenibilità ha molteplici dimensioni, ne citerò quattro ma ce ne sono anche altre. Naturalmente la più conosciuta, quella ambientale, non solo la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell'ambiente di fornitore di risorse, di ricettore di rifiuti e di fonte diretta di utilità, ma anche la capacità di valorizzare l'ambiente in quanto elemento distintivo del territorio. La seconda è la sostenibilità economica, cioè la capacità di produrre e mantenere all'interno del territorio il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei servizi territoriali. Terzo la sostenibilità sociale, cioè la capacità di garantire condizioni di benessere umano, sicurezza, salute e istruzione per tutti i segmenti di una popolazione convivente. Quarto, non meno importante, la sostenibilità culturale. La diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura. La diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre un'esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale. La crisi in atto ha agito come acceleratore sul fronte della sostenibilità, rafforzando la convinzione che questo rappresenti una possibile via per uscire dalla crisi e per ricostruire su nuove basi un rapporto di fiducia fra imprese e società. Questa percezione risulta oggi condivisa da una maggioranza di uomini di impresa e di opinion leader e in questo quadro la sostenibilità, che in passato veniva vissuta come una questione etica più che economica, viene assumendo oggi un nuovo peso e un profilo molto più concreto e realistico. La concezione emergente indica che la responsabilità verso la società e verso l'ambiente rappresenta sempre più un elemento costitutivo della corporate governance e appare destinata dunque ad ispirare ogni decisione e ogni abito della vita di impresa, in una prospettiva più strategica che di breve periodo, più pragmatica che valoriale, è destinata a produrre ritorni economici oltre che di immagine. E infatti le politiche anticongiunturali di molti governi, a cominciare dagli Stati Uniti, stanno indirizzando interi settori industriali, si pensi all'auto e all'energia, nella direzione di modelli di sviluppo in grado di conciliare crescita economica con rispetto dell'ambiente ed equità. L'opinione prevalente è che proprio nel mezzo di una crisi epocale, come quella che stiamo attraversando, il tema della sostenibilità vada acquisendo una peculiare importanza e centralità. La sostenibilità di processi e prodotti appare come una parte rilevante della soluzione per uscire dalla crisi. Avranno ancora spazio di crescita le aziende che vivranno la sostenibilità come opportunità e non come vincolo e che proprio su queste basi sapranno ricreare un nuovo rapporto di fiducia con la società in cui operano. La sostenibilità è un tema che offre molteplici declinazioni concrete, uso più attento delle risorse, risparmio energetico nei processi produttivi e anche nei punti vendita, riduzione degli imballi e indicazioni sul corretto smaltimento, campagne di educazione dei consumatori a risparmio, a recupero, a riciclaggio, prodotti a ridotto impatto oltre che processi con minori emissioni e consumo di risorse. Per le imprese la sfida necessaria per concretizzare il potenziale di innovazione e della sostenibilità appare dunque quello di assumere un ruolo attivo e propositivo, promuovendo la discussione sulla visione e sulle condizioni della sostenibilità possibile, lavorando insieme per costruire un denominatore minimo condiviso che possa essere proposto al consumatore come riferimento e promessa credibile, impegnandosi in progetti di comunicazione ed educazione come possibile fruttuoso terreno di nuova alleanza con i consumatori, stimolando il mercato con prodotti, novità e scelte sostenibili che siano al contempo vicine e accessibili. All'azienda spetta il compito di incoraggiare i consumatori in questo percorso mettendo a disposizione prodotti e servizi accessibili e non di nicchia che non comportino sacrifici o rinunce né sul piano del prezzo né su quello della qualità e delle performance, avviando infine anche un ripensamento sui significati e i parametri della qualità e del benessere, un nuovo paradigma che investe i valori e gli stili di vita oltre che il modello produttivo e distributivo. L'orientamento è in sostanza ad un benessere che nel mondo della casa, cuore delle nostre ricerche e del nostro impegno deve assumere necessariamente nuovi significati e nuove sfide da approfondire e cogliere. Solo alcuni esempi, una nuova filosofia di flessibilità dell'abitare nel senso di nuove tecnologie flessibili di costruzione, in Italia il concetto di casa come patrimonio durevole e fisso è parte di un retaggio culturale dalle tempistiche di rinnovamento più lente. Inoltre la disponibilità mentale verso un nuovo modo di abitare è anche un fattore generazionale. In Italia la persona che punta a tecnologie costruttive flessibili, ad esempio le strutture leggere in legno, è anagraficamente giovane ma in ogni caso punta a tali tecnologie per altre ragioni, per l'ecologicità, per la velocità di costruzione. Case bioclimatiche, ecologiche, a basso consumo energetico, le case sostenibili ottengono il massimo dell'efficienza con il minimo di impatto ambientale, un tema che coinvolge ormai l'intera filiera del settore edilizio ma anche la politica impegnata a ripensare strategie e incentivi per un edilizio a impatto zero. Dalle diverse tipologie di edifici ecologici al problema della misurazione della sostenibilità energetica ambientale fino agli interventi sull'edilizia esistente. Manca quindi la domanda, quali nuove forme di comunicazione e vendita possono direzionare verso una nuova idea di casa? Un altro tema importante è la multifunzionalità degli spazi. La multifunzionalità e l'intercambiabilità della destinazione funzionale degli spazi ha un limite perché è facile il cambiamento tra spazi per l'abitare, camere, salotto, pranzo, studio, ma il limite è dettato dagli spazi di servizio come la cucina e i bagni che necessitano di infrastrutture ad hoc e tendono a dover mantenere rigidamente la loro posizione, funzione e dimensione. Vi sono dunque tecnologie o architetture da applicare per rendere il sistema servizio più flessibile? Una domanda a quale provare a dare risposte. Un altro tema che riguarda la flessibilità è la modalità di possesso e di acquisto della casa. Quali modalità innovative di possesso e acquisto degli oggetti possono esistere per poter soddisfare le esigenze mutevoli degli utenti? L'affitto, il prestito, l'utilizzo in comune sono modalità che si affermeranno secondo quali tempi e con quali possibili approcci? Sta già iniziando naturalmente. Un altro tema al tema degli elettrodomestici. Oggi abbiamo una rappresentanza importante del settore qui presente. La domanda è è possibile creare degli elettrodomestici nuovi sotto forma di ibridi, ovvero che non siano staticamente legati all'idea del singolo elemento per lavare o per cucinare o per pulire, ma siano accomunati da tecnologie che sfruttino elementi simili, l'acqua, il fuoco, il calore, non solo per pulire, asciugare, a cucinare, ma anche per ottimizzare i consumi e le prestazioni. Infine una domanda ai relatori che verranno adesso, cioè la politica e l'economia. Qual è il ruolo della politica e del mercato in tutto questo? Serve per forza l'incentivazione per adottare determinate scelte e rendere la sostenibilità qualcosa di diffuso? Quanto è vicino, quanto lontano è il mondo della politica e del mercato da queste idee, ci sono paesi che sono un po' più avanti, la domanda è perché? Se oggi riusciremo a dare qualche risposta a queste domande il convegno avrà contribuito, credo, a portare un elemento importante per lo sviluppo in una giornata che per noi, come sapete, è molto importante perché è anche l'anniversario della nascita del fondatore, di mio padre, di questa azienda, 89 anni fa è nato, quindi credo che sia il modo migliore per ricordarlo, un uomo che ha avuto grande capacità e innovatività, credo uno degli imprenditori che ha rappresentato il modello di sviluppo di questa regione. Grazie.